Il comune di Comiso non eroga il servizio di trasporto dei soggetti disabili al CSR da quasi due mesi. Il motivo? Il pulmino è guasto e il comune non può permettersi di acquistarne un altro. Ogni giorno da lunedì al sabato il pulmino trasporta 15 utenti tra bambini e adulti disabili. Ogni giorno 15 persone vengono presse da casa o da scuola portate al centro di riabilitazione per il trattamento riabilitativo e riaccompagnate a casa o a scuola. Un servizio che spetta al comune e che è erogato gratuitamente agli utenti. Ma a Comiso da quasi due mesi questo non avviene. E molte famiglie sono costrette a rinunciare al trattamento, spesso fondamentale per la salute dei loro familiari. Un calo di oltre il 50%. Nelle ultime settimane sono infatti solamente 6-7 disabili che riescono a continuare ad andare al centro per la loro terapia. Gli altri restano a casa. Non tutti possono infatti permettersi di pagare qualcuno che porti i propri figli o familiari al centro. Molte mamme non hanno la patente di guida e i papà lavorano. Gli anziani non hanno chi li accompagna. Per non parlare poi degli extracomunitari che spesso vivono nelle campagne limitrofe e che hanno rinunciato al servizio perché non hanno l'auto e i soldi per la benzina. Perché fare su e giù da Comiso alle campagne una, due o tre volte la settimana costa e molte famiglie non se lo possono permettere. Una situazione drammatica per chi già vive in una condizione difficile come la disabilità. Stanno prendendo in giro, se la sono messe con delle persone gravemente con problemi di salute, quindi con problemi di disabilità. Loro riferiscono che le dovrebbero andare in gara d'appalto, che non possono mettere il nero su bianco. Tanto che è vero che ci sono delle persone che vivono nelle periferie e non stanno manco potendo soffrire di questo CSR. Cioè uno non ha piacere diciamo in quanto avere questo problema di salute. Magari uno si desidererebbe avere più salute che avere da fare con questa gentaglia qua. Perché per me è arrivato a questo punto, sono delle gentaglie che stanno pensando solamente ai loro problemi economici piuttosto che pensare a delle persone che hanno delle problemi di disabilità. Il Comune ha chiesto al CSR di occuparsi del servizio di trasporto per due o tre mesi in attesa che arrivi un nuovo pulmino. Il CSR venerdì ha presentato agli uffici competenti la sua proposta economica che prevede la messa a disposizione di un pulmino e del personale necessario. 14 euro ad utente per ogni trasporto, così come stabilito da disposizioni ministeriali. Un rischio che il CSR vuole assumersi, pienamente cosciente della situazione economica in cui verse il Comune, è dunque ben consapevole delle possibilità che ci sono di rivedere chissà quando questi soldi. Perché la cosa più importante è la salute dei disabili. E se il CSR non avesse deciso in tal senso, a quale futuro sarebbero stati destinati questi disabili? A voi le dovute riflessioni in attesa di una risposta da parte dell'amministrazione. Di arroganza e prepotenza parla il PD, di Nello Furioso parla Italia dei valori, attacchi frontali al sindaco di Ragusa da parte dei partiti di opposizione per una vicenda che da giorni anima la scena politica ragusana, sfuggendo al controllo del sindaco. I fatti risalgono all'incontro che si è svolto venerdì scorso tra l'amministrazione e le associazioni di categoria sullo stato di crisi dell'agricoltura. Alla riunione erano presenti anche alcuni consiglieri comunali, capigruppo delle liste alla maggioranza. Presente anche il consigliere Giuseppe Arestia dell'MPA, che però è stato allontanato dal sindaco nel pieno della riunione perché aveva mostrato il suo disaccordo nei confronti del primo cittadino in merito al prezzo del latte. Un allontanamento che ha scatenato la reazione dei partiti all'opposizione. Sono comportamenti che denotano un nervosismo di fondo, dichiarano dal PD, manifestiamo la nostra convinta preoccupazione per quello che continuamente accade a Palazzo dell'Aquila, dove il confronto politico non è affatto sereno, ma anzi si è trasformato in un fatto personale. Siamo decisamente preoccupati, commentano invece dall'Italia dei Valori, per l'arroganza con cui il sindaco interpreta il suo ruolo e la sua conseguente concezione di democrazia. Evidentemente il sindaco delle tasse, che comunque non ha mai nascosto la sua indole arrogante, a tratti anche volgare, oggi è assolutamente alla deriva. Questa è l'ennesima prova, dicono infine da Movimento Città, che il sindaco è infastidito dalle opposizioni. Più tiepido invece è il consigliere Lodestro, capogruppo del Movimento per l'Autonomia. Quello del sindaco è stato un atteggiamento poco democratico, ha detto Lodestro, Di Pasquale poteva sfruttare meglio l'esperienza che il consigliere Arestia ha del comparto agricolo per elaborare interventi più profiqui e invece ha sprecato questa occasione. Una difesa poco incisiva da parte del consigliere Lodestro, da cui ci si sarebbe aspettato un affondo più energico, che il capogruppo sia in difficoltà nell'assumere una chiara e netta posizione, insomma allo destro tra l'incudine di territorio e il martello del suo collega di partito. Nuovo attacco al sindaco Di Pasquale da parte del PD cittadino. La causa è l'ennesimo rincaro imposto dall'amministrazione comunale nel 2012, a Valenza retroattiva da gennaio, che riguarda l'addizionale IRPEF deciso durante l'ultimo consiglio comunale. Dopo il ticket sui pulmini, l'aumento della refezione scolastica, dei servizi cimiteriali, dello svuotamento dei pozzi neri, dopo la tassa di soggiorno e l'arretta sugli asili nido, un nuovo rincaro dunque per i ragusani. La giustificazione adotta dal sindaco Di Pasquale è sempre la stessa, cioè i tagli da parte del governo nazionale e regionale, ma il PD non ci sta. È un sindaco bugiardo, precisa la segreteria cittadina, che ha affamato la città imponendo in sei anni ai ragusani qualcosa come 15 milioni di euro di tasse locali in più all'anno, spazzatura più 5 milioni, acqua più 4 milioni, addizionale comunale IRPEF più 3,8 milioni, ICI più 2 milioni, riducendo la città a un rudere abbandonato. Il PD non risparmia commenti anche nei confronti della maggioranza che sostiene il sindaco in consiglio, una maggioranza succube del sindaco che si fa notare solo con la forza dei numeri e mai con la forza degli interventi. Pochi, troppo pochi, per un totale di quasi 20 consiglieri gli interventi di spessore di reale interesse nei confronti della cittadinanza. L'aumento dell'addizionale comunale IRPEF, dicono dal PD, è stato votato senza fiatare in modo assolutamente passivo dalla maggioranza. Che tristezza vedere la nostra ragusa ridotta in queste condizioni da un personaggio populista e incantatore che cambia colore davvero opportunista. Speriamo, concludono, che le sue ambizioni politiche lo inducano a dimettersi presto per avere la speranza di salvare una città un tempo considerata modello di sviluppo, oggi purtroppo al crepuscolo. L'amministrazione comunale naviga a vista. Questa è l'accusa lanciata dal consigliere comunale del PD Fabio Fenchino che incalza l'assessore ai lavori pubblici Roberto Cassiba sui costi per la realizzazione della rotatoria di via Cechov e di altri lavori di sistemazione per altre poche strade. La domanda che pone Fenchino riguarda l'opportunità di spendere migliaia di euro per la realizzazione di queste opere, quando invece, vista la situazione del dissesto finanziario, sarebbe stato prioritario ripristinare le strade a maggiore rischio e limitarsi a mettere in sicurezza la zona di via Cechov con un rafforzamento della segnaletica orizzontale e verticale, risparmando così denaro che si sarebbe potuto impiegare diversamente. Fenchino ha annunciato che presenterà due interrogazioni, la prima per conoscere rispetto alla somma totale a quanto ammonta l'impegno di spesa per la realizzazione della rotatoria, la seconda per sapere se per l'affidamento dei lavori si è proceduta una gara di evidenza pubblica per garantire la trasparenza. L'esponente del PD ancora torna sulle consulenze assegnate al sindaco portando a testimonianza un decreto del sindaco del 30 luglio del 2010 per l'incarico di un esperto di fiducia in materia di problematiche ecologiche. Il sindaco, infatti, dichiara Fenchino, parla di una riduzione delle spese per le consulenze, ma i numeri parlano chiaro, 50.000 euro all'anno per il consulente da paro e della liquidazione di una fattura di 8.000 euro relativo all'incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per l'anno 2011. E a proposito, si tratta dello stesso da paro che nell'ultima tornata elettorale è stata impegnata a cicli nella lista Terra Mia raccogliendo 17 voti di preferenza come consigliere comunale, un po' pochi perché ha fatto e continuo a fare il consulente a comiso a 50.000 euro all'anno. Che fatica e quanto tempo per avere le delibere? Come ricorderete, nelle scorse settimane ci siamo occupati dell'edizione 2012 di Agrem, la fiera dell'agroalimentare promossa dalla Fiera Maia di Vittoria. Un mese fa avevamo inoltrato una richiesta di accesso agli atti per conoscere le cifre e spese per l'organizzazione dell'evento. Ebbene, dopo quasi un mese, ovvero il tempo massimo per legge, abbiamo ricevuto i documenti e abbiamo dovuto pagare 29,20 euro, per l'esattezza. Insomma, 30 giorni di attesa è un costo non indifferente per fare il nostro mestiere, ovvero quello di informare la gente. E pensare che per la legge sulla trasparenza tutte le delibere di qualsiasi ente pubblico dovrebbero essere pubblicate su internet a disposizione di tutti, gratuitamente, così come avviene nei siti di tanti comuni italiani. Come stampa, inoltre, dovremmo avere l'opportunità di poter ricevere le delibere in tempi ristretti e pensiamo anche senza alcun costo. Quanto dovremmo spendere altrimenti se volessimo approfondire un qualsiasi argomento che sta particolarmente a cuore dei cittadini? Intervistato sull'argomento, l'assessore alla trasparenza di Vittoria Piero Currieri ha dichiarato di avere già da tempo sollecitato il presidente delle Maia per la pubblicazione online dei documenti. Una soluzione che certamente renderebbe più semplice l'accesso agli atti e diminuirebbe il lavoro degli uffici competenti. Del resto, non si tratta di un fatto eccezionale, ma solamente dell'applicazione della legge Brunetta sulla trasparenza amministrativa con il relativo abbattimento dei costi. E a proposito degli accesso agli atti da parte dei giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa ha chiesto di recente che il Parlamento approvi una legge che si ispiri ad esempio al Freedom of Information Act, il provvedimento ideato dai paesi scandinavi, che gli Stati Uniti approvarono nel 1966. L'obiettivo è che tutti i cittadini con in prima fila i giornalisti possano conoscere documenti pubblici. La Federazione Nazionale ha annunciato che nei prossimi mesi lavorerà, primo passo potrebbe essere la presentazione di una mozione parlamentare, per ottenere un provvedimento di legge che obblighi gli enti pubblici di qualsiasi natura e collocazione territoriale a rendere immediatamente conoscibili i propri atti, attuando così concretamente il principio costituzionale che riconosce al cittadino il diritto ad essere informato. Ora è sotto il sole per l'aeroporto di Comiso. Ha preso il via questa mattina presso lo spiazzale dello Scalo Gasmeneo. La protesta promossa da diversi movimenti e partiti cittadini per protestare contro i ritardi dell'avvio dello scalo e per dare una spinta al Governo nazionale e agli enti preposti. L'iniziativa, davvero unica e singolare, denominata appunto Ore sotto il Sole, consisterà in un sit-in che si ripeteranno a distanza di una settimana, aumentando progressivamente il numero delle ore di permanenza sotto il sole. Un'azione che non vuole essere solo dimostrativa, ma che mira a mantenere alta l'attenzione per l'apertura dello scalo. E per le prossime settimane i promotori organizzeranno anche tornei di calcio balilla, calcetto o comunque altre iniziative per far riappropriare i cittadini di questo spazio. L'azione è simbolica, l'azione non è per prendere il sole come qualcuno aveva detto, ma per mantenere viva l'attenzione, destra l'attenzione su una problematica che stenta a risolversi. Meglio fare qualcosa che non fare nulla, meglio agire che lasciare o sentire delle persone che dicono tanto non concluderanno nulla. No, esserci e movimentare. Insomma, le forze politiche e sociali della città intendono riprendere la lotta iniziata dal deputato regionale del PD, Pippo Di Giacomo, che per sei giorni ha attuato lo sciopero della fame, interrotto con la promessa da parte del ministro Passera di un incontro per cercare di dare qualche certezza in più all'apertura dello scalo. Ma considerato i silenzi che avvolgono l'aeroporto, le ore sotto il sole, cociente durante quest'estate, saranno davvero una dura prova. Intanto oggi è andata per fortuna bene con il sole che era attenuato da qualche nuvola. Ancora alta l'attenzione sulla questione del MUS, il potente sistema di antenne satellitari militari in via di installazione Niscemi, a causa delle forti radiazioni che emette, può essere causa di danni alla salute dei cittadini e all'ambiente circostante. Le antenne infatti sono state impiantate al centro di un sito SIC di interesse comunitario, ovvero la Sughereta, un vero e proprio polmone verde a pochi chilometri da Niscemi. Ma non solo danni alla salute e all'ambiente, il MUS, infatti, come confermato anche da alcuni studi, potrà avere interferenza anche sulla navigazione aerea, visto che a pochi chilometri in linea d'aria ci sono sia l'aeroporto di Comiso sia l'aeroporto di Catania. Alla fine della seduta i consiglieri comunali hanno approvato una mozione per chiedere la sospensione dei lavori e la revoca delle autorizzazioni rilasciate dal Governo nazionale e regionale alla Marina Militare Americana. E intanto prosegue l'azione dei comitati che stanno raccogliendo migliaia di firme da consegnare al Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, continuando nelle scuole e nelle piazze i momenti di divulgazione per sensibilizzare le popolazioni. Alfano e la Giunta di Centrodestra perdono anche la fiducia della banca tesoriera e mettono a rischio gli stipendi dei dipendenti. Questa volta il primo cittadino ha interrotto i rapporti con la banca che ha svolto da sempre il servizio di tesoreria per il Comune, la quale, rigidendo, si chiede l'immediato rientro dell'anticipazione di cassa, mettendo a repentaglio anche gli stipendi dei dipendenti. La denuncia arriva dal segretario cittadino del PD, Gigi Bellassai. Infatti, tutta la nuova liquidità proveniente da Stato e Regione verrà assorbita dal rientro finanziario imposto dalla banca. In un quadro come quello comisano, ribadisce l'esponente del PD, è quindi urgente e indispensabile bloccare tutte le spese inutili e gli sprechi perché nonostante il congelamento della massa debitoria dovuta al dissesto, già nel mese di maggio 2012 il Comune, con la sola gestione corrente, si trova con un deficit di cassa di quasi 4 milioni di euro. Tra le proposte lanciate dalle forze di opposizione ad Alfano, c'è quella di attivare una manovra che prevede fra l'altro i tagli della spesa e della politica con una riduzione del 40% delle indennità degli amministratori per i prossimi 5 anni, l'eliminazione di tutte le consulenze a titolo oneroso, l'azzeramento dei dirigenti con il trasferimento delle competenze al segretario generale, la vendita delle auto blu e di quella a disposizione degli amministratori, la razionalizzazione dell'uso delle auto di servizio e la riduzione delle spese di carburante, nonché l'eliminazione delle spese di rappresentanza e il blocco di tutte le missioni dei viaggi e delle trasferte per gli amministratori. A ciò bisogna aggiungere una razionalizzazione delle utenze Enel e telefoniche del Comune e il rafforzamento dell'ufficio tasse per aiutare i contribuenti a reutilizzare l'arretrato individuando le sacche di evasione che raggiungono il 40% e la revoca della convenzione con la Serit che sta creando solo problemi ai contribuenti senza produrre entrate. Infine, altra proposta dell'opposizione, quella di costituire una task force con un ufficio unico specifico per la partecipazione ai bandi regionali nazionali ed europei che stanno per partire. Una porta aggirevole. Ecco che cosa ci vorrebbe per la sede dell'MPA Comisano. In questi giorni il partito ha visto la nomina del nuovo coordinatore cittadino Giuseppe Caruso e l'uscita di tutto quasi l'intero gruppo precedente tra cui uno dei fondatori accomiso del movimento Giovanni Angelieri. Proprio Angelieri e i suoi hanno deciso di fondare un movimento Liberi Liberi prendendo così le distanze dal commissario provinciale dell'MPA Paolo Roccuzzo con il quale sin da subito si era capito che l'amore a prima vista non era nato. La spaccatura insomma era inevitabile dietro l'angolo ed è arrivata dopo la nomina commissario provinciale del partito da parte di Roccuzzo. Difficile che Roccuzzo e Angelieri provenienti da due modi di fare politica diversi potessero riuscire a fare sintesi. Non solo fino a pochissimo tempo fa Angelieri era un uomo di fiducia di Riccardo Minardo a Comiso. A questo punto l'interrogativo e se ci siano anche contrasti tra Minardo e Roccuzzo o se il deputato regionale abbia abbandonato Angelieri. E così l'MPA Casmeneo si ritrova a partire da zero quasi. Riparte da Caruso ex assessore dell'Aggiunta Alfano con delega allo sviluppo economico ed ex PDL un volto noto della politica nonostante la giovane età convertito agli ideali ai principi dell'autonomismo. Caruso qualche mese fa aveva annunciato anche la sua sospensione dal PDL perché non condivideva più l'appoggio del partito all'Aggiunta Alfano. E adesso l'MPA cosa farà? Il partito in un evidente stato confusionale e dovrà riprendersi dallo schiaffo morale lanciato dall'ex componente fuggita da solo o mandata via dal Roccuzzo. Questo è ancora da chiarire. E anche a livello regionale il partito era mai allo sbando. Proprio qualche giorno fa il presidente della regione Raffaele Lombardo si è lasciato andare a dichiarazioni non certi incoraggianti. Non ho mai creduto nel terzo polo e sono deluso dall'evoluzione dell'MPA. Detto dalla bocca del fondatore del movimento si capisce che qualcosa non funziona. Forse Lombardo ha perso le redini del partito e non è riuscito a mantenere la situazione sotto controllo. Insomma un partito che anche dopo i risultati deludenti delle ultime elezioni amministrative in Sicilia ha bisogno di capire che cosa farà da grande e fare scelte di campo precise. Rischi e pericoli per gli automobilisti che oggi a Comiso transitavano nei pressi dell'ospedale Regina Margherita. Intorno alle 14.30 alcuni operai stavano sistemando il mando stradale. Finalmente una bella notizia qualcuno penserà ma la strada in realtà non era interrotta e non vi erano segnali che indicavano agli automobilisti di percorrere altre vie per recarsi a casa in ufficio o in qualsiasi altro posto. E così chi si è trovato su malgrado a percorrere l'arteria ha dovuto fare un pericoloso slalom tra i mezzi impegnati a lavorare per scarnificare l'asfalto facendo attenzione ad evitare la palla meccanica della ruspa che si muoveva da una parte all'altra e ad evitare anche i dislivelli del manto stradale sconnesso da lavori in corso. Insomma un bel rischio per l'ingolumità di automobilisti e pedoni mentre come detto non c'era alcun operaio che segnalava alle auto di rallentare. L'appello che lanciamo come emittente è che chi di dovere prenda le dovute precauzioni per evitare il possibile insorgere di incidenti stradali e di prevenire La politica si sa a costi altissimi lo dimostrano i maxi stipendi le indennità e i privilegi vari dei diputati nazionali e regionali cifre che l'Italia agli occhi di molti non può più permettersi ma che nonostante ciò continuano a non essere toccate dai tali del governo nazionale. Accanto ai costi della politica però c'è un altro aspetto spesso volutamente trascurato i costi dell'apparato burocratico soprattutto a livello locale. Abituati come siamo a puntare il dito contro i cosiddetti gettoni di presenza che spettano i consiglieri comunali impegnati nella loro attività politica dimentichiamo infatti spesso di volgere lo sguardo all'interno degli uffici comunali. Ma quanto spendiamo per i dirigenti comunali? Il sito del comune di Ragusa che tutti possono consultare parla chiaro cifre notevoli che in questi tempi di crisi fanno una certa impressione anche se per la verità la farebbero anche in tempi di vacche grasse. Il comune di Ragusa ha retribuito il segretario generale Benedetto Buscema nell'anno 2011 con quasi 124.000 euro. Medaglia d'argento per Angelo Frediani dirigente del sesto settore che per soli sei mesi da gennaio a giugno ha percepito 83.700 euro. A questi vanno poi ad aggiungersi le parcelle per ogni causa vinte naturalmente anche per i contenziosi persi secondo quanto stabilito da un regolamento comunale che la scorsa legislatura ha tentato di modificare. Tentativi chissà perché falliti. Terzo posto per Giuseppe Salerno per cinque mesi fino a maggio direttore generale e da settembre a dicembre capo del gabinetto del sindaco per un totale di quasi 80.000 euro per nove mesi di lavoro. Vicini ai 110.000 euro Francesco Lumiera dirigente del primo settore e Michele Scarpulla dirigente del settimo seguono Giorgio Colosi dirigente del sesto settore con quasi 103.000 euro e Rosario Spata dirigente del dodicesimo con quasi 99.000 euro. Attorno ai 96.000 euro si attestano poi tutti gli altri Alessandro Licitra dirigente del secondo settore Cettina Pagotto dirigente del terzo Giuseppe Mirabelli dirigente del quarto settore Egno Torrieri dirigente del quinto Giulio Lettica capo dell'ottavo Santi Di Stefano dirigente del nono Salvatore Scifo dirigente del decimo ed Elide Ingallina dirigente dell'undicesimo a sentire queste cifre si resta senza parole concessa l'attenuante che si tratti di dirigenti di gente con responsabilità e si spera con una certa competenza e preparazione lo shock resta L'anno 2012 per molte città compresa Ragusa è stato e sarà un anno difficile l'amministrazione di Pasquale nello specifico ha imposto rincari per quasi ogni servizio possibile e nonostante ciò continua ad elargire stipendi simili ai propri dipendenti un po' di austerità in casa propria prima di imporla in quella ad altri non guasterebbe Angelica contro lo destro è accaduto ieri mattina durante una riunione della commissione urbanistica di cui il consigliere dell'MPA è presidente causa della bagarre il piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013 bocciato dalla commissione il consigliere dell'Udc Angelica è uscito dall'aula dopo che la sua richiesta presentatelo nel discorso di poter ottenere degli approfondimenti di natura tecnica su alcune delle opere inserite all'interno dello strumento di programmazione è caduta nel vuoto in particolare Angelica ha chiesto di visionare due progetti di finanza che prevedono l'intervento di privati il primo riguarda l'ampliamento della discarica subcomprensoriale per rifiuti solidi urbani sita incontrata a Cava dei Modicani per un importo di 6 milioni e 915 mila euro l'altro riguarda invece la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel sito di un'area dismessa sempre nella stessa discarica in questo caso l'importo è di 6 milioni e 500 mila euro in commissione però i progetti non sono arrivati perché il dirigente non sarebbe riuscito a trovarli nonostante ciò il presidente lo destro ha deciso di continuare la seduta procedendo al voto del piano Angelica per proteste è uscito dall'aula determinando la bocciatura del documento con 4 voti favorevoli e 4 astenuti non posso non stigmatizzare l'atteggiamento di lo destro ha commentato Angelica che con un comportamento prevaricatore lesivo nei confronti delle istituzioni ha ugualmente posto in votazione il punto un atteggiamento che condanno e che a questo punto mi lascia decisamente perplesso perché rispetto a tanta improvvisazione su atti importantissimi non si può essere così superficiali un'attenzione che siamo certi emergerà domani giorno in cui si riunirà il consiglio comunale proprio per discutere del piano triennale delle opere pubbliche di un'attenzione di un'attenzione di un'attenzione di un'attenzione di un'attenzione di un'attenzione